12 anni e 6 mesi dopo, l'Aquila concede un luogo della memoria ai suoi 309 figli che il terremoto del 6 aprile del 2011 ha tolto dagli affetti delle loro famiglie. Quelle stesse famiglie che oggi rivedono i loro cari lì, in quel parco al loro dedicato. Non un monumento, ma un parco che il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha voluto inaugurare insieme al Ministro del Sud e della Coesione Territoriale, Mara Carfagna. Quel parco che lo stesso Draghi ha voluto rappresentare con una simbologia particolare. La mia presenza oggi serve a ribadire, prima di tutto, il dovere del ricordo. La scossa di terremoto che ha colpito l'Aquila nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 appartiene alla memoria collettiva dell'Italia e del mondo. Ricordiamo le 309 persone, i 309 angeli che hanno perso la vita e i loro cari, a cui va ancora oggi il mio più sentito cordoglio. Tra le vittime, tanti bambini, tanti giovani, come gli otto ragazzi e ragazze della Casa dello Studente che in questa città erano venuti per prepararsi il futuro. La città dell'Aquila ha scelto di affidare la memoria del terremoto non a un tradizionale monumento, ma a un parco. Uno spazio aperto, che è simbolo del vuoto lasciato da chi è morto in quella terribile notte. Ma questo spazio è anche simbolo di pienezza. Sarà riempito da tutte le famiglie, dai bambini che giucheranno tra queste aiuole e tra queste fontane. È il vuoto del dolore che viene riempito dall'affetto e dalla memoria. Il Premier ha poi tracciato una roadmap di quello che il suo governo intende fare e che ha già fatto in tema di ricostruzione, dando seguito al tempo delle parole con quello dell'azione. Oltre alla responsabilità della memoria, il governo deve assumersi l'impegno dell'azione. Mi riferisco alla ricostruzione post-sisma. Dobbiamo accelerare. È un obbligo morale che abbiamo verso voi tutti, cittadini. Non è un caso che oltre un miliardo e mezzo di euro del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza sia stato destinato proprio alla ricostruzione dei territori colpiti, non solo dal terremoto di L'Aquila, ma anche da quello del 2016. Il governo ha deciso di destinare un'apposita linea di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai territori del centro Italia colpiti dai terremoti del 2009, 2016 e 2017. Ha un valore questo stanziamento di 1,78 miliardi di euro e finanzia la ricostruzione sicura e sostenibile. Tutti questi investimenti vogliono essere un impegno concreto per la ripartenza. Grazie. Grazie.